Il metodo Feuerstein si rivolge a tutte le facce d'età, dai bambini più piccoli fino ai signori più grandi. È un metodo scientificamente testato che serve per sviluppare le intelligenze di Garner nelle varie aree cognitive. Un metodo che serve per aiutare nello studio, un metodo che serve per aiutare nella vita e, perché no, anche per divertirsi. Faremo dei bellissimi lavoratori creativi, useremo anche delle schede, impareremo a fare delle mappe concettuali per studiare in modo più efficace. Chiunque sia interessato, vi aspetto per imparare e divertirci assieme. Ciao!